Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di entrare nelle novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sono per noi segni immensi di apprezzamento. Grazie di cuore. Quando Kate Middleton ha condiviso la sua battaglia personale contro il cancro, ha anche portato alla luce un capitolo sorprendente e profondamente generoso della sua vita, avvenuto sette anni prima. Questa rivelazione ha dimostrato che il suo impegno nel fare del bene per gli altri ha radici profonde. Prima di affrontare il proprio cammino difficile, Kate aveva fatto una scelta di generosità pura, aveva donato i suoi capelli, volendo offrire come conforto e sostegno a coloro che combattono contro il cancro. La storia di questo gesto nobile inizia in modo piuttosto quotidiano, durante una visita al salone del suo parrucchiere di fiducia, Joy Wheeler. Mentre i suoi capelli cadevano sotto le forbici esperte di Joy, a Kate venne un'ispirazione. Immaginò quei capelli, che altrimenti sarebbero stati scartati, trasformarsi in un dono di speranza per qualcuno in lotta per la vita. Non esitò a condividere questa idea con Joy, che fu immediatamente colpito dalla profondità e dalla bellezza del pensiero. Con discrezione e umiltà, Kate fece quindi la sua donazione, scegliendo di farlo in silenzio, senza cercare alcun riconoscimento. La storia di questa donazione, venuta alla luce solo recentemente, ha toccato il cuore di molti, illuminando l'indole altruista di Kate Middleton.